Buonasera, benvenuti tutti voi nella libreria Rotondi. Questa sera parleremo di Arthur Conan Doyle, l'inventore di Sherlock Holmes, e lo vedremo in una chiave nuova come appassionato di spiritismo, tanto che scrisse questa storia dello spiritismo in cui raccontò cosa successe in Inghilterra dalla fine dell'Ottocento. Ne parleremo con Sebastiano Fusco, che conoscete, è un grande studioso di esoterismo, di magia, di cabal, nonché storico traduttore di Lovecraft che tutti noi abbiamo amato. Abbiamo anche il piacere di avere l'editore Chiara Orlandini di Venezia. Allora, ogni libro ha una storia e quando ho sentito parlare per la prima volta di questo testo ho cominciato a guardare di cosa si trattava. Il testo era molto molto più grosso e era un testo diciamo di formato ottocentesco, un po' ridondante, eccetera. L'Europa avevamo pensato come può una storia, e poi adesso vi spiegherò, di questo tipo piacere a un pubblico moderno. E allora abbiamo avuto un curatore che ha scelto i brani. Abbiamo anche fatto una ricerca iconografica, molte delle immagini me le ha date proprio Sebastiano Fusco e abbiamo messo assieme questa antologia. Perché ci interessava così tanto questo libro? Perché Arthur Conan Doyle, che appunto autore di Sherlock Holmes, era una persona che amava rigorosa. Amava portare in qualsiasi cosa lui facesse lo stesso tipo di rigore, di analisi, di approfondimento e di razionalità anche nei suoi studi. Per cui anche nella storia dello spiritismo lui l'affronta con un piglio razionale per dimostrare quanto è vero tutto quanto. Il suo interesse era nato dalla morte del figlio. Aveva un figlio amatissimo che è morto durante la prima guerra mondiale. E lui non riusciva ad accettare l'idea di aver perso qualsiasi contatto con questo figlio. Per cui si è dedicato alla ricerca di come poter appunto mantenere il legame e mantenere la presenza del figlio. A questo si è dedicato studiando tutti i grandi medium del periodo, andando a tutte le sedute spiritiche possibili e immaginabili, ma sempre studiandole. Cioè questo è vero, questo è falso, questo chissà che cosa è eccetera eccetera. Ne è venuta fuori questa antologia appunto che è di cui siamo particolarmente contenti perché è interessante, leggera, briosa e allo stesso tempo assolutamente appartenente a quel periodo e a quell'epoca. Di spiritismo adesso se ne parla di meno, non c'è più questo interesse nei medium o nel... è talmente facile fare altri tipi di esperienze, ci sono tantissime alte branche della magia eccetera eccetera, per cui la storia dello spiritismo e lo spiritismo stesso è passato un po' in secondo piano. Però quando uno legge questo testo vengono a cominciare a venire anche dei dubbi perché sì, quello era un charlatano però poi l'altro no e qui cos'è successo davvero eccetera eccetera. Per cui apre la porta anche oggi, in questo periodo così più razionale, apre la porta a tantissime possibilità e opzioni di un mondo di cui sappiamo poco o niente e di cui c'è la possibilità invece di approfondire e di vedere veramente altre dimensioni. Questo è quanto e lascio la parola a Sebastiano Frosco, grazie. Grazie, grazie. Allora, prima di parlare dello spiritismo in quanto fenomeno culturale, ecco parliamo un pochino di Conan Doyle che effettivamente è stato, come diceva Chiara, un personaggio straordinario. lo conosco bene perché hanno curato le opere in italiano, quindi non parlo di una persona così, quasi conosco come se fosse un amico. L'argomento principale per quello che riguarda lo spiritismo e Conan Doyle è il fatto, intanto che lui si pose come, venne chiamato così, il San Paolo dello spiritismo perché affrontò questa materia con il rigore di un apostolo che voleva diffondere non esattamente una nuova religione ma diciamo un nuovo tipo di conoscenza che per lui era l'apertura su un mondo completamente diverso nei confronti del quale il nostro mondo non era che un piccolo spicchio di una torta molto grande. Ecco, e fece questo con lo spirito razionale del positivismo ottocentisco ed è questo che è molto interessante in Conan Doyle perché, come sempre diceva Chiara, lui applicava il metodo sperimentale. Non è un caso che lui coinvolse nella ricerca spiritica grandi menti scientifiche del suo tempo. Oh, è una cosa molto interessante perché parallelamente in anni molto vicini qualcosa di questo genere succedeva anche sul versante della magia perché quelli erano gli anni in cui cominciò ad affermarsi e a diffondere le sue opere in una società magica esoterica inglese che si chiamava l'Alba d'Oro, Godan. Ecco, di questa società facevano parte non soltanto maghi esoteristi, astrologi e cose di questo genere ma c'era una grande rappresentanza di scienziati, per esempio l'astronomo reale di Scozia era uno dei membri dell'Alba d'Oro e così tante altre personalità. Anche questa è una cosa che mi conta personalmente, ho curato io i libri pubblicati in Italia e proprio questo fatto di avere curato contemporaneamente sia le opere dell'Alba d'Oro sia le opere di Conan Doyle mi ha colpito per la presenza del positivismo, della scienza, del metodo sperimentale addirittura in queste due imprese intellettuali. L'Alba d'Oro addirittura si vede della struttura di un'università che era all'epoca la suprema istituzione docente dell'impero britannico, il college, sembrava il Cambridge, l'osfile della magia. E così Conan Doyle applicò il metodo sperimentale a tutte quante le cose che lui ha scritto e ha detto dell'esoterismo, dello spiritismo. Diciamo aiutato anche da personaggi straordinari come il signor Cruz che è stato l'imbettore del tubo catodico, quindi pensate, noi per tanti anni abbiamo visto la televisione perché c'era il signor Cruz che aveva inventato il tubo catodico e lui era stato il braccio destro di Conan Doyle nell'imporre questa nuova dottrina particolare. e lui, che so, la certezza di avere comunicato col figlio leibbe proprio perché attraverso un messaggio ottenuto mediante un medium pose a chi gli rispondeva delle domande delle quali lui solo conosceva la risposta e la risposta venne e lui mandò una lettera straordinaria agli altri figli per dire guardate, ho trovato il vostro fratello. Quindi è una cosa molto bella, voglio dire, anche dal punto di vista umano è un'avventura straordinaria. Lui stesso Conan Doyle poi non era una persona che si fissava esclusivamente su qualche cosa. Noi lo conosciamo soprattutto per Sherlock Holmes. In realtà lui ha scritto una marea di roba. in tutti quanti i campi, non solo dello scibile, ma soprattutto nella narrativa fantastica. Per esempio, lui è uno degli antesignani della fantascienza. Ecco, dico un esempio. A tempo fa, Chiara, mi deve rivedere un suo libro che aveva pubblicato sugli alieni, gli schiolanti. E nel testo c'era uno dei capitoli che riguardava l'ipotesi che non si esaltasse di macchine, ma si esaltasse di esseri viventi che vivevano nell'atmosfera come i pesci nell'acqua. I pesci vivono continuamente navigando nell'acqua. Questi esseri che lui immaginava vivevano sempre nell'atmosfera, navigando nell'atmosfera che è un fluido come l'acqua, perché il loro peso specifico era bassissimo, benissimo. Lui diceva che è una ipotesi strana, non si era mai sentita, eccetera. Non è vero, perché negli anni venti, all'inizio degli anni venti, Conan Doyle scrisse un racconto intitolato L'orrore e l'altezza che era basato proprio su questo tema, che nell'atmosfera ci fossero degli animali che vivevano come meduse. Ecco, quindi pensate, questo autore ha scritto il suo libro, mi è toccato mettere una nota per dire che questo, che lui non andava, manco sapere chi era. Ma questo per dire, lui scrisse un libro sul mondo perduto, uno dei suoi libri più famosi, The Last World. Ecco, e questo libro ebbe non soltanto una serie di imitazioni incredibili, ma fondò proprio il topos del mondo perduto, il mondo nel quale la plaga sconosciuta, nel quale ancora vivono i dinosauri, il mondo antitiluviano e cose di questo genere. Scrisse un romanzo su Atlantide, scrisse un romanzo sulla fine del mondo. Cioè, era un genio incredibile, straordinario. Però, diciamo, applicava a tutte queste cose il criterio del positivismo. Lui non raccontava nulla che non avesse una sua giustificazione. Tutte quante le sue fantasie, tutte quante le ipotesi più strane, vengono da lui giustificate attraverso studi, ricerche, che erano chiaramente quelle fino all'Ottocento, inizio Novecento, quindi oggi sono sorpassate. Però, comunque, lui non azzardava ipotesi, non diceva cosa è tanto per dire, raccontava la verità. Ecco, la verità, secondo quello che lui poteva sapere, diciamo, e la verità incredibile che lui ha raccontato è questa verità sul mondo ultracarreno. Dunque, è stata una cosa che ha cambiato moltissimo, la tradizione del cosiddetto fantasma, come noi la conosciamo. Dunque, non è che i fantasmi sono venuti a bussare la casa dei vivi nella seconda metà dell'Ottocento con le sorelle Fox, no? La famosa storia della casa in cui si sentivano i colpi, eccetera, eccetera, poi di origine alla questione del spiritismo. I fantasmi fanno parte della storia dell'umanità. Qualche anno fa è stata trovata fra le tavolette babilonesi in un deposito del... 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 Museum una tavoletta che raffigura, e c'è sotto il testo con le forme che lo conferma, raffigura una maga che porta al laccio un fantasma che aveva evocato 3.500 anni fa. Ecco. Una cosa di questo genere è un topos, diciamo così, l'evocazione da parte di una maga di un... di un trapassato che si ritrova in tutta quanta la nostra... la nostra... non voglio dire letteratura, protoletteratura, diciamo, degli... dell'antichità. Per esempio, nella Bibbia, qualcosa che si è scritto molto probabilmente almeno un migliaio d'anni dopo questa... questa tavoletta, c'è la storia della strega di Endor che viene chiamata per evocare l'ombra di Saul. è un episodio che è, diciamo, conosciutissimo, sta nella Bibbia. Nella farsaglia di Lucano c'è l'episodio di un'altra strega che sembra scritto quasi sovrapponendo un calco all'episodio della strega di Endor nella quale si chiama una maga che evoca un fantasma facendolo parlare attraverso un cadavere per avere vaticini su come dovrà andare a finire la battaglia di Farsalo e qui siamo quindi 10-11 anni dopo Cristo se non ricordo male cosa di questo genere ecco ma anche prima di allora c'erano episodi di questo tipo nella letteratura per esempio il filosofo Atenodoro greco che secondo una lettera di Plinio e quindi anche qui siamo poco dopo Cristo diciamo un giorno si trova all'Atene e fu aveva bisogno di una casa una casa in affitto cercò delle case pigioni altissime c'era una casa invece che quasi ti facevano entrare perché perché era una casa infestata aveva fama di avere un fantasma benissimo il filosofo apposta per questo affitta la casa e una sera sta nel suo studio a scrivere e a un certo punto si scatena tutta la sintomatologia tipica che c'è ancora detto delle case stregate si sente la temperatura che si è bassa cicolare di una porta rumore di scosse catene così ansimi in un certo punto compare il fantasma che è come quello che vediamo nei romanzi gotici abbiamo visto nei romanzi gotici un vecchio barbuto con gli occhi con gli occhi sbarrati a volte in un sudario e che fa agita nelle catene producendo producendo un rumore il fantasma li facendo di seguirlo gli aspetta che sto scrivendo finisce di scrivere la questione poi segue il fantasma il fantasma lo porta in un giardino intorno alla casa e poi improvvisamente scompare il filosofo segna con delle foglie il punto in cui il filosofo è scomparso il fantasma è scomparso la mattina dopo va dall'autorità ha detto magistratum dice la magistratura che si chiama diverse cose ecco vanno lì scavano il posto indicato e trovano lo scheletro uno scheletro vinto in ceppi ecco gli si dà sepoltura secondo gli riti e il fantasma si placa ecco sembra una cosa una cosa scritta in un romanzo gotico di fine ottocento inizio novecento e sarà scritta da Plinio che racconta qualche cosa di aver sentito molto tempo prima Plinio nel primo secolo dopo Cristo ecco ma non è ci sono esempi ancora più antichi per esempio c'è una 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 commedia di Plauto un titolo da Mostellaria che è basata sugli equivoci che ci sono intorno a una casa stregata è è una cosa grottisca diciamo così più che orrorifica però c'è il fatto che è basato sul topos della casa stregata come quello che ci sono sfruttano loro e per di più questa questa commedia è stata scritta da Plauto imitando un autore greco del quarto secolo avanti Cristo che si chiamava la commedia si chiamava Fasma e l'autore non mi ricordo più però abbiate presenza la capoccia se ne andate comunque era un autore greco di 300 anni antecedente a Plauto dunque tutte queste cose sono interessanti non tanto per il topos del fantasma che ci portiamo indietro da molto tempo poi vi spiegherò meglio ma per il fatto che la sintomatologia dell'apparizione del fantasma dei fenomeni che diciamo fanno corona all'apparizione del fantasma della casa stregata del fantasma che cerca di riparare in questa vita una turbativa che è nata nell'altra vita cioè il corpo insepolto senza riti e cose di questo genere un omicidio rimasto insoluto come in tante case stregate eccetera già si ritrovi addirittura dalle origini della nostra letteratura e non ho citato poi gli infiniti fantasmi che si trovano nella tragedia greca che si trovano nell'Iliade nell'Odissea e nell'Eneide dove compaiono o vengono cercati evocati fantasmi di ogni genere e tipo Ulisse che va nell'Ade a cercare l'ombra l'ombra di Achille Agamennone che compare ad Achille nell'Iliade diciamo questo è un topos molto antico perché adesso è un topos molto antico è una cosa che noi ci portiamo dalla nostra remota ascendenza sciamanica perché tutte queste manifestazioni il concetto stesso del mondo degli antenati del mondo che è sopra di noi del mondo che noi non possiamo né vedere né attingere ma attraverso un certo tipo di ritualità un certo tipo di preparazione interiore possiamo in qualche maniera scorgere certa volta possiamo addirittura andarci benissimo questo mondo deriva dalla nostra ancestrale il nostro ancestrale retaggio sciamanico ne abbiamo le testimonianze non soltanto sulle iscrizioni rupestri e cose di questo genere ma anche ne abbiamo le testimonianze nella realtà viva degli sciamani che esistono adesso mi permetto di raccontarvi un episodio personale è quanto per dire l'ho raccontato tante volte insomma tanti anni fa proprio da tanti diciamo così ma trovai in Australia perché ero stato attirato dalla leggenda di Ayer's Rock benissimo vado verso Ayer's Rock solo sopra una camionetta quelle qua non c'era da nessuno nessuno sapia che si era a Iyer's Rock parlo credo di più di 60 anni fa insomma poi dopo il cinema e tutte le cose ecco messe a mezzo del deserto senza un accidenti niente solo io sta camionetta andava avanti metterò una figura in mezzo a questa strada vuota nel deserto totale all'improvviso questo stava sulla strada mentre che passavo adesso io non le coincidenze esistono però come diceva Jung esistono perché c'è qualcosa che le fa coincidere ecco e allora ci siamo tra io e questo questo signore era un 9 e 8 non ha fatto così negro brutto cioè nudo con un po' di foglia sopra le vergogne ecco questo genio con in mano una voce una mezza scorticata che ha brussolita scorticata era quello ecco parlava inglese questo signore perché era stato da piccolo ragazzino presso una 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 missione protestante quindi in qualche maniera abbiamo potuto intenderci potuto tenere a distanza perché pulsava in maniera indecibile però questo signore mi ha aperto tutto un certo tipo di conoscenze che difficilmente in altro modo avrei potuto avrei potuto avvicinare perché mi ha aperto la conoscenza del del volo magico del mondo del sogno come diceva lui come diceva lui no del mondo degli antenati nel quale si andava in volo gli sciomani andavano in volo magico per impetrare presso gli antenati aiuto nel raccolto nella caccia e cose di questo genere ecco questa cosa qui nel secolo scorso diciamo che è un po' in questo secolo purtroppo diciamo non è poi da antiannico insomma 60 anni fa e c'era che sono questo signore una delle persone strane che ho incontrato forse quelle coincidenze lunghiane nel corso della mia vita però ecco è stato un contro anche se ero molto giovane un contro non è fondamentale perché mi ha fatto capire per esempio che non devi guardare nelle apparenze per capire per giudicare le cose e questo è una cosa orrenda proprio anche all'ho fatto però voglio dire lui mi ha concesso un tipo di conoscenza che neanche il più alto dei professori universitari in occidente non avrebbe mai potuto potuto in qualche maniera leggere ecco e quel signore era uno che di fatto evocava gli spiriti questo era il suo mestiere vedeva gli spiriti nel senso soprattutto di spiritualità perché lui vedeva gli spiriti non soltanto come diciamo gli antenati gli spiriti dei morti ma lui vedeva gli spiriti nel senso dell'apparenza ulteriore di un albero di una roccia di un animale ecco lui effettivamente era una porta una soglia fra questo mondo e un mondo di apparenze molto molto diverso ecco questa è stata una delle tante cose che mi hanno fatto capire che diciamo il positivismo il razionalismo la nostra scienza profana diciamo hanno un certo valore io lo so sull'ingegneria quindi non è che non ha disprezzo la scienza profana tutt'altro però so che riguarda soltanto una categoria dell'esistenza c'è una categoria ulteriore a quale noi abbiamo accesso mediante altre cose ecco nell'ordine cronologico dell'umanità diciamo il fenomeno dello spiritismo riguarda quel tipo di fenomeni quel tipo di conoscenze particolari che ci aprono proprio questo tipo di soglie su una realtà che noi altrimenti non potremmo conoscere bisogna stare attenti perché questo tipo di apertura è di natura simbolica cioè noi non vediamo ciascuno di noi perché è una cosa individuale non ci sono carte geografiche che valgano per tutti ciascuno ha la propria carta geografica e se la deve disegnare da solo ecco in questo mondo ciò che vive ciò che appare ciò con cui possiamo interfacciarci sono cose che nascono da dentro di noi questo non significa che non abbiano realtà oggettiva perché uno dei criteri fondamentali del pensiero chiamiamolo così magico è che non ci sono differenze tra l'interiorità e l'esteriorità ecco come diceva la tavola di Smeraldo no? il documento famoso ciò che è in alto è come ciò che è in basso ciò che è in basso è come ciò che è in alto per fare il miracolo di una cosa unica ecco questo è il concetto che bisogna sempre tenere presente quando si studiano questo tipo di fenomeni lo spiritismo è solo un caso ma ce ne sono infinità abbiamo parlato prima della Golden Dawn benissimo loro studiavano un sistema molto particolare specifico proprio per entrare dentro questo mondo la chiamavano astral projection cioè proiezione estrale ecco usavano un simbolo in genere una carta dei tarocchi e lo so perché l'ultimo libro è scritto guardavo questo ecco una carta dei tarocchi che loro proiettavano in qualche maniera con la mente contro una parete liscia e questa dopo tutta una serie di operazioni di concentrazione organizzazione contemplazione è stata complicata che ho spiegato nel codex che ho scritto con la gentile signora Orlandini trasformavano questa carta in una soglia la traversavano e si trovavano in un mondo che simbolicamente era coerente con la carta che avevano indirato per esempio se usavano la carta della giustizia si trovavano in un mondo nel quale loro vedevano forse controbilanciate che devono essere equilibrate da un qualche cosa ecco e parlavano con gli esseri che c'erano in questo mondo discutevano interagivano ciascuno di loro però noi abbiamo i loro resoconti di questi mondi avevano un'impressione differente loro trovavano una matrice comune sovrapponendo le varie esperienze e per questo sono molto interessanti le loro discussioni proprio che abbiamo in questa maniera un'immagine coerente di quel mondo al di là che tanti di noi che hanno questa ansia di vedere qualcosa di nuovo completi di spiritisti in qualche maniera cercano di raggiungere ecco nel progresso dell'umanità diciamo lo spiritismo che è sempre stato uno dei punti chiave in questo genere di dottine in quest'ansia di conoscere ciò che è al di là ecco ha avuto tutta una serie di trasformazioni tanto per dirne una in epoca classica l'ora dei fantasmi non era la mezzanotte al contrario era il mezzogiorno i grandi fantasmi dell'umanità diciamo così avvenivano le loro apparizioni avvenivano in quell'ora Sofocle descrive descrive una 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 l'apparizione di una divinità cioè lo spirito di qualche cosa che abita dall'altra parte ecco e la descrive in piena calura dice questa è l'ora del giorno nella quale la calura è più alta faceva caldo ecco perché era mezzogiorno ma perché il mezzogiorno perché una volta quando c'erano neurologi né clessidere né tutto questo il sole era l'unico modo per capire il tempo ecco il mezzogiorno era l'unica ora del giorno che poteva essere individuata localmente senza equivoci pantavi un bastone di sopra terra quanto bastone face ombra quello era mezzogiorno ed era l'unica ora che tu potevi decidere localmente perché cambia qual era di lui localmente potevi decidere essere un'ora quindi per loro quella era l'ora sacra non la mezzanotte la mezzanotte non si poteva come indicarla e quindi c'è il mezzogiorno e l'ora sacra si velavano i tempi a mezzogiorno quando c'era i templi dell'antichità greca venivano il Santa Santorum del Tempio veniva velato proprio perché le ombre che uscivano a mezzogiorno le ombre intese come gli spiriti che giravano fra i mortali a mezzogiorno ecco non potessero entrare nel Santa Santorum ci sono potrei parlare tutta la giornata a parlare di esempi di questo genere però tanto per far capire che era molto diverso rimase più o meno individuata in questa maniera per tutta l'antichità la categoria specifica dell'apparizione di qualche cosa che non c'è dall'altra parte non solo il fantasma ma l'apparizione delle immagini degli dei delle ninfe delle creature multaterrene l'immagine del gran diopanna che anche lui compare a mezzogiorno suonando suonando la siringa e terrorizzando i pastori il terror panico l'apparizione improvvisa del diopanna nel pieno della calura dell'estate nel mezzo dei campi ecco e questo è descritta da tanti in fine di cose e abbiamo abbiamo avuto tante descrizioni la stessa cosa nella letteratura gotica addirittura nella letteratura fantastica contemporanea benissimo questo tipo di apparizione con l'avvento del cristianesimo cambia ecco perché perché i padri del cristianesimo comettero che la credenza in cose di questo genere la convinzione che esistessero questi fenomeni e adessero un valore religioso vedesse l'idea del Dionico ecco e allora ci sono lunghe discussioni almeno per quattro secoli dopo 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 la diffusione dei Vangeli ho fratto a proposito di Vangeli mi viene in mente così dunque nei Vangeli il fantasma è presente perché quando Cristo cammina sulle acque è il Matteo questo i i gli apostoli si spaventano dicono un fantasma e lui deve dire no guardate sono io ecco dopo nella risoluzione quando le donne vanno nel sepolcro e lo vedono si spaventano e lui deve far vedere che non è un fantasma e lo dice ecco dice io non sono uno spirito sono io proprio io quando incontra gli apostoli per convincerli che non è un fantasma non è uno spirito si fa portare da mangiare e fa vedere che mangia come una persona come una persona normale quindi persino nei Vangeli non soltanto nella Bibbia nella Bibbia o nel fantasma anche nei Vangeli c'è l'idea del fantasma ecco di fronte a una cosa di questo genere però c'era il rischio che una cosa legata ai fantasmi cioè il culto degli antenati che era vivissimo nell'antichità potesse diventare qualche cosa che distraeva dal concerto un Dionico e allora fu Agostino moccasola la capoccia mia non funziona non mi ricordo in che opera ma in un'opera abbiate pazienza scusate sono povero vecchio dunque in una in una delle sue opere disse ma non mi ricordo vabbè disse e statui che tutto questo tipo di operazioni di cose erano inganni del 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 demonio con pochissime eccezioni lo ammetteva solo pochissime eccezioni esortava i cristiani a non credere a questo genere a questo genere di cose erano conti di case infestate sono inganni sono inganni di satana ecco e questo concetto andò avanti praticamente per tutto il medioevo cominciò a traballare fra il novecento e il millecento quando nacque il purgatorio ecco c'è un bellissimo saggio un signore signore goff intitolato la pubblicazione nascita del purgatorio che spiega tutte le vicende che hanno portato al concetto di purgatorio ecco che è tardivo scusate ma è tardivo nella rotina cristiana nei padri della chiesa non c'è ecco o sei dannato o sei salvo mentre misure giustamente non le prevedevano ecco poi Dante diede grande grande risalto e grande pubblicità popolarità al concetto di purgatorio benissimo cosa successe col purgatorio Sant'Agostino diceva è inutile che fate sacrifici per i defunti è inutile che facciate rituali e cose e cose l'unica cosa efficace per l'anima del defunto è la preghiera perfetto e allora cominciarono le preghiere prezzolate cioè nei monasteri andava andava dalla gente e dice anche oggi quello che è successo negli ultimi anni alla religione cristiana non si fanno e allora cominciarono a pregare a dare le mosine ai monaci dei conventi perché loro pregassero e allora cominciò l'idea dell'anima del purgatorio i monaci per incentivare in qualche maniera questo tipo di donazioni cominciarono a diffondere tutte le cose più incredibili sulle anime purganti che venivano e impetravano la preghiera a suffragio dei loro peccati ci sono anche qui a Roma abbiamo il museo del purgatorio sul lungotevere qualche settimana similgotica che sta a lungotevere dentro c'è il museo dell'anima del purgatorio se mi fanno un parro quanto è dentro con la labbra in armadio e ci stanno soffre pezzi di legno cose bruciacchiate eccetera con le immagini delle anime purganti che la mano l'anima di purganti che imprime un segno a fuoco sul legno c'è un sacco di cose ma cosa è che soggiorno che siamo dovutele pari ecco in questa maniera in questa maniera proprio per incentivare in qualche maniera questo tipo di commercio chiamiamolo così riemerse il fantasma e c'è tutta una tradizione che mostra come queste anime purganti e queste cose cominciassero a entrare nelle faccende degli uomini apparivano in tutte le maniere in tutte le mode apparivano alle persone alle persone del dolgo e apparivano ai ragnanti ci sono varie 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 narrazioni di ragnanti che avevano assistito fenomeni strani e avevano preso delle decisioni proprio per avere avuto visioni di questo genere questo questo qui l'abbiamo anche poi di riflesso anche nella nella letteratura che sono lo spesso del padre che appare ad amleto e cose di questo genere qui c'è un'infinità di cose del genere che c'è stata una ricaduta letteraria non proprio immediata ma insomma abbastanza molto intensa di un concetto di un concetto di questo genere in questo modo diciamo il concetto del morto che ritorna del fantasma rientrò in qualche maniera nel folclore dell'umanità mentre per quasi tutto il medievo era rimasto sopito proprio per non contrastare la sentenza di Sant'Agostino e noi seguiti accusati di eresia non lo scherzo contemporaneamente si è manifestato anche un'altra cosa di un certo interesse per esempio questo fenomeno di risurgenti del mostro che ritorna del fantasma che ritorna cominciò a diffondersi soprattutto nell'Europa del Nord ci servono i motivi ma insomma ecco sotto una forma differente cioè quello che ritorna non è lo spirito ma ritorna il cadavere vero e proprio il cadavere riprende vita non è mai morto riprende vita e passa fra gli uomini facendo nefandezze di ogni tipo da questo tipo di leggenda è la leggenda del vampiro che è il morto che ritorna non esce dalla bar e deve essere e deve essere diciamo sovraffatto attraverso tutto un ritualismo specifico e particolare il paletto nel cuore l'aglio cose di questo genere comunque questi due fenomeni si diffondono in pratica contemporaneamente negli stessi anni soprattutto nel versante mediterraneo diciamo così dei paesi che risponde al mediterraneo all'aspetto del fantasma dell'ombra che ritorna del fantasma del vivo che ritorna con gli uomini altrove è proprio lui che ritorna il fantasma in sottoforma di vampiro e questa cosa si diffonde continuamente e le due leggende a un certo punto si intersegano hanno delle connotazioni che si sovrappungono e soprattutto entrano nella lettatura dunque Choser nei racconti di Canterbury parla di due a due due episodi di fantasmi episodi che raccontano un altro topos particolare cioè uno il fantasma che ti ammonisce il tuo amico che ritorna e dice non prendere quella nave non salire su quella nave non fare quel viaggio perché ti porterà sfortuna morirai allora il fantasma che ammonisce e l'altro invece il fantasma che si vendica cioè il fantasma che è la persona che è stata uccisa che torna e denuncia il delitto e fa in modo che il colpevole venga in qualche maniera punito ecco queste due forme altri topos che sono andati avanti in maniera diffusissima nella narrativa fantastica nascono proprio da questo tipo di inferenze ecco i morti l'orda dei morti che cavalcano nel vento e la loro apparizione e motivo annuncio di sventura e cose del genere una igiena ordica diffusissima che ha delle 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 singolari una delle novelle più famose di boccaccio è quella di assaggio degli onesti no che in una foresta una foresta vicino a un certo punto si vede di fronte una cavalcata incredibile cioè uno spettro sopra un cavallo infernale che insegue una donna la raggiunge e ne fa stazio ecco e loro gli raccontano che questa sono le anime di due persone che in qualche maniera avevano commesso un un peccato dunque il peccato era della donna ma siccome boccaccio era boccaccio il peccato non era che la donna aveva commesso lussuria ma il peccato era che la donna si era negata alla persona che l'amava e questo ne aveva provocato il suicidio per cui veniva colpita veniva punita dal suo amante deluso che la inseguiva solo un cavallo infernale e la faceva a pezzi con la spada ecco però la caccia salvaggia la amore ha certamente c'è tante precedenti si trova in Elinando si trova in Geoff di Canterbury di Canterbury eccetera c'è un sacco di gente ma ecco il fatto che boccaccio abbia scelto proprio una leggenda di questo genere per riproporla rovesciando nella morale come era sua secondo il suo spiritaccio come c'è fuori in De Cameron diciamo è molto significativo ma capire come erano diventati popolari questi racconti di fantasmi e questo tipo di cose andando avanti senza stare fanno da fumo diciamo con il nascere del pensiero cosiddetto illuminista cioè il sorgere della Dea Ragione soprattutto dopo la rivoluzione francese allora queste cose cominciano in qualche maniera a spegnersi sono rare i racconti di fantasmi classici nel periodo dell'illuminismo della cultura illuminata ecco a un certo punto però ritornano prepotentemente e quando ritornano? ritornano proprio con nascere del positivismo nel momento in cui sembrerebbe il più assurdo per far nascere cose di questo genere credi nel soprannaturale proprio tu che sei un positivista che credi soltanto nelle cose concrete che hai accolto la filosofia dell'impinismo e il rasoglio di Ockham credi soltanto a quello che puoi toccare e vedere e non consideri niente di ciò che rimane parte della tua fantasia ecco perché ecco ce lo spiega un signore che si chiama Chesterton l'autore di padre Brown no siamo veramente con i giallisti ci sono molte coincidenze tra i giallisti e gli spiritisti diciamo ecco Chesterton che era cattolico disse una volta si si smette di credere in Dio non è vero che non si crede più a niente si crede a tutto e infatti è quello in cui da quel momento per nascere il positivismo noi cominciamo a vedere nella storia non voglio dire la cultura o del pensiero diciamo nella storia di questa particolare attività cerebrale umana che consiste nell'interessarsi a cose di questo genere non lo fate perché comunque noi abbiamo visto un proliferarsi di sette credenze convinzioni magie tutte le cose più ciane proprio nate attraverso il positivismo lo spiritismo è una delle cose più chiare da questo punto di vista perché lo spiritismo non è diciamo la negazione del positivismo e del materialismo ma ne anzi la magnificazione perché concepisce l'aldilà questo grande territorio nel quale vagano le ombre dei morti come un corrispettivo in qualche maniera del mondo che esiste cioè mano mano che sono andate avanti gli spiritisti con le loro sedute con le loro ricerche nell'ampiarsi dell'interesse anche ai cosiddetti fenomeni psichici l'espe cosa di questo tipo sono arrivati quasi alla convinzione che nell'aldilà c'è un doppio della nostra società c'è un un un'architettura sociale c'è una struttura gerarchica che è simile a quella a quella umana e noi abbiamo delle delle la possibilità ogni tanto di parlare con questi signori capendoci fino a un certo punto ma semplicemente perché i loro discorsi sono molto differenti sono 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 la loro la loro la loro ambienza chiamiamolo così è così estraneo che ci riesce difficile da farci capire ecco a questo punto posso raccontarvi un altro piccolo aneddoto che non riguarda esattamente me riguarda una persona che ho conosciuto molto molto bene si chiama lorenzo stuni ecco che era una demissione intelligente per servire io ho mai conosciuto nella mia vita era un esperto di simbologia conosceva tutto quello che si può immaginare riguardo ai riflessi dell'altra realtà su questo mondo aveva costruito tutta una serie di simbologie basate soprattutto sul simbolo dello specchio proprio per avere contatti con questo tipo di genere ecco lui proprio con queste sue attività perché sui due cose aveva aveva diciamo delle sensazioni delle cose era molto amico di federico fellini dopo la sua scomparsa gli è apparso ecco e lui la domanda che gli ha fatto ma com'è il mondo all'altra parte e la risposta è stata in maniera molto diversa da qualsiasi cosa si possa immaginare ecco anche lei mi è testimone per una cosa una cosa il problema è che noi tendiamo perché una o una nostra tendenza naturale a sovrapporre le nostre gerarchie a sovrapporre i nostri schemi mentali a sovrapporre soprattutto la nostra logica su cose su cose che noi non possiamo comprendere perché una volta arrivata è una realtà diversa tutto è diverso anche i sentimenti sono diversi tutto è diverso ecco quindi siccome non c'è nulla fuori di noi che non siete dentro di noi questo significa che noi andiamo a fondare la sonda in un territorio talmente profondo che non riconosciamo più quello che vediamo quello che in qualche maniera possiamo percepire però lo rivestiamo di qualche cosa che ci è familiare ecco io sono rimasto molto colpito di un'altra cosa che aveva grande diffusione negli anni 70 cioè i sistemi tecnologici per parlare con l'aldilà era il momento in cui c'erano le cosiddette voci di Raudive Raudive era uno studioso che si era dato a ricercare parecchio su cose di questo genere cioè erano voci che all'improvviso comparivano nelle trasmissioni radio nel momento in cui c'è il silenzio il rumore bianco non c'è a un certo punto compare una voce che ti dice delle cose un'altra cosa c'erano i registratori al nastro benissimo su questi nastri vergini facendoli girare a un certo punto si sentivano delle voci che dicevano delle cose e a un certo punto c'era chi faceva delle domande e poi con cose di questo genere sentiva sentiva delle risposte non soltanto con questo poi cose di questo genere sono capitate col telefono c'è gente che ha cominciato a parlare con i morti per telefono non c'è mica niente di questo genere anche l'occasione racconta c'era gente che vede comparire all'improvviso delle figure strane nel televisore la trasmissione che c'è non c'è dovuto scompare c'è un po' di sforfallio e poi esce fuori l'immagine di Lorgino morto vent'anni perì c'è una casistica enorme di cose di questo genere e allora erano molto 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 diffuse al punto che anche qui dico mi permette di dire una cosa personale a quel punto un il direttore di una rivista alla quale collaboravo e che mi chiedeva di scrivere delle cose strane la chiesa si chiama Roger il direttore veramente un bel signore il signore Enrico del Boccar ecco a me chiedeva sempre delle collaborazioni su cose strane e curiose ecco perché sapeva le cose più interessate siccome all'epoca ero appunto studente in ingegneria e mi piaceva costruire macchinette e cose di questo tipo lui mi chiamava e mi dice Sanastriano inventati delle cose strane ma mandami degli articoli su cose curiose che si possono fare e lui inventava un articolo come ci si può costruire una bomba atomica e mai le avessi fatto ecco poi una delle cose che gli scrivessi la macchina per parlare con i morti benissimo e allora misi su un esperimento ad arautive ecco esperimento ad arautive cioè un registratore e un microfono normalmente con il presenza di un medium mi produce un amico mio che dice ciao per tutti come c'era un amico mio che non facevo il medium normalmente uno mette dentro un nastro vergine lo faccio irare dopo lo rivolge senza che c'è inciso qualcosa e facciamo questo io andavo lì io però avevo fatto una piccola miglioria al parecchio fra il microfono e il registratore avevo inserito un oscilloscopio perché pensavo se se è il microfono capta queste cose e ritornezza ci sarà un'alterazione del cappelletti voglio lo oscilloscopio in qualche maniera la deve la deve registrare e ci mettiamo lì a quell'altra cosa mentre c'è il medium che era in meditazione ah beh lo oscilloscopio era piatto a certo punto è un picco allora stacco il nastro lo faccio ripassare e se sente tutto un sfracchio lì non si riesce niente lo faccio rallentare piano esce una cosa prima un rumore così come dei passi che si avvicinano e poi una singola parola Thanatos ecco deliquiosa che i treguati gli scassiati stavano con me che uno si sente male cose di questo genere però il naso ce l'ho cura non c'è più però il nostro ce l'ho ancora questo quando andai la cosa impressionante diciamo di questo affare qua quando andai dal rio del boccarda a dirgli quello che avevo fatto lo vedi impallidire perché perché in quel periodo poverino aveva la madre molto anziana che era più di là che di qua diciamo così avevano stesse morte ecco adesso diciamo è un piccolo aneddoto ma per far capire come si intrecchino questi due mondi io l'ingegnere all'epoca si mi interessava di questo tipo di cose eccetera però vedete come e non può neanche parlare di suggestione perché l'hanno sentito centomila centomila persone stavaro sentiva proprio chiaramente insomma i bassi stavaro nessuno ha visto niente naturalmente il medium era uno di quelle cascate in siliquio però ecco ecco quindi e quindi diciamo ci sono strane colleganze tra quello che vediamo quello che sentiamo quello che procuriamo eccetera e in qualche modo bisogna starci anche attenti perché poi le suggestioni che nascono sono molto potenti ecco una delle persone come sa lì stava male che c'è ancora tempo perché sono dovuto andare io a rincuorarlo a cosa perché ha avuto un'impressione veramente molto forte da una cosa di questo genere ecco però quello che diciamo la somma di questo tipo di cose quello che mi interessa è che noi abbiamo molti modi per in qualche maniera avvicinarci ad una realtà differente ecco ma dobbiamo stare attenti ai modi che noi in qualche maniera mettiamo in essere perché siamo sempre confrontati con qualche cosa che è molto profondo dentro di noi nel profondo della nostra coscienza non ci sono soltanto belle cose ma ci sono i nostri incubi ci sono i nostri terrori ci sono le cose che più ci fanno spavento e che vengono ricacciate in fondo dalla coscienza però succede qualche cosa di strano ogni tanto queste cose in qualche maniera fermentano ribullano e qualche cosa viene 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 in superficie è come se si scoppiasse scoppiasse una bolla di gas a un certo punto viene viene da noi non sotto forma di odore ma sotto forma di visioni sensazioni pensieri strani cosa curiosa ecco quindi bisogna stare anche molto attenti vigilare molto nei confronti se abbiamo curiosità nei confronti di questo genere bisogna vigilare molto pensare bene a quello che facciamo o non facciamo perché poi il nostro meccanismo la nostra coscienza il nostro equilibrio mentale è una cosa piuttosto precaria e se già si è squilibrato un pochino per conto nostro si fa presto dare un calcio e buttare giù il masso alla rupe ecco comunque diciamo lo spiritismo per tornare per tornare lo spiritismo io l'ho visto sempre con soprattutto non tanto come il fenomeno il morto che in qualche maniera ci riappare perché abbiamo visto che ci sono centomila casi di questo genere sempre contraddittori sempre diversi con significati sempre diversi non è questo io vedo una cosa di questo genere come il sovrapporsi dentro di noi di questa realtà con l'altra ecco sono simboli che escono nella nostra coscienza per farci in qualche maniera prendere un certo tipo di contatto con l'altra realtà ecco io sono un appassionato di un autore che si chiama Locraft che era il più grande dei razionalisti materialista all'eccesso eppure aveva un mondo interiore un mondo onirico soprattutto incredibilmente russureggiante incredibilmente vasto multiforme in tutte le maniere possibili lui pur avendo una resistenza interiore particolare nell'accettare una cosa di questo genere la esorcizzava dicendo sono sogni sono visioni che ho dentro di me però quelle visioni lo hanno condizionato personalmente tutta la sua vita è stata sconvolta proprio da cose di questo genere ecco è quello secondo me che sta succedendo alla nostra società noi Locraft esorcizzava questo tipo di cose dando loro forma narrativa che noi facciamo lo stesso i nostri incubi le nostre paure le nostre attenzioni eccetera le esorcizziamo a suo spettacolo Netflix per esempio è un enorme esorcismo ci regala le visioni più spaventose le cose di distanza dicendo è come le fiabe che una volta raccontavano di cose terribili spaventose matrigne assassine orchi mangiauomini draghi però non ci fanno una perché c'era una volta c'era questo estorcismo e c'era una volta è così tanto è narrativa è attenzione è il gioco di ruolo cose di questo genere noi ci giochiamo con questo tipo di cose ma questo tipo di roba ha proprio a livello della società lo stesso effetto che Locraft dava la sua narrativa lui scriveva di questi mostri mostri del suo inconscio perché ciascuno di questi incarnava un suo aspetto particolare una sensualità frustrata un desiderio di affermazione anch'esso frustrato cose di questo genere che erano incarnati ciascuno da un mostro specifico di Oxotocci Chulu Azotocci queste cose che lui immaginava e lui le esorcizzava trasformandoli i racconti e così la nostra società esorcizza i suoi incubi trasformandoli in spettacoli specialmente adesso se noi andiamo a vedere il cinema vediamo mostri di altri geni c'è mai stata una cosa di altri geni io dico quando ero ragazzino quando c'erano i film delle mostri eccetera vediamo parrocchia erano un quadro adesso invece tutti i film più diffusi ma è già successo se vedono le cose più tremende cose terribili insomma quando ero io ragazzino non se ne poteva neanche parlare invece adesso arrivo a casa la nostra con la televisione con tutti con tutti i sistemi diciamo di educazione la sciocchezza il cinema la televisione i giochi vuoti in qualsiasi con le canzonette quando ero quando ero ragazzo mio quando ero ragazzo io le canzoni parlavano l'amore adesso sembra 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 di entrare in betola il maricomio criminale londera quando senti le cose di oggi ecco anche quelli che le cantono se tu li vedi ai suoi attimi che cosa c'erano io chiamavano chiamavano neuro delirich insomma è cambiato molto ed è cambiato molto proprio perché il nostro atteggiamento nei confronti di questo tipo di cose ha delle resistenze particolari mentre una volta si accettava in qualche maniera il fatto anche a livello sul consul che ci fosse una realtà diversa una realtà che in qualche maniera poi saremmo venuti a conoscere e c'era poi soprattutto lo scuola della fede la fede religiosa che nei confronti di una cosa di questo genere aveva un'operazione faceva un'operazione calmiratrice era e soprattutto rassicurante la beata speranza e cose del genere adesso queste cose non ci stanno questi paletti messi al nostro volto interiore non ci sono più ecco c'era un signore che diceva che i sogni e gli incubi per l'individuo corrispondono al malessere sociale al disordine della società noi abbiamo degli incubi anche la società ha gli incubi e si vedono in un malessere sociale così strana disordinata scombinata come quella come quella che si vede oggi cioè quello che dice io ho fatto le bombe atomiche che mi distruggono in 5 secondi e diceva sei cattivo non si può non è non sarebbe stato concepibile ecco io diciamo questo piccolo vantaggio nella verità che ho che posso posso dare il confronto con quello vero e quello vero ecco secondo per fortuna sveglio in qualche maniera sento un pochino una cosa per questo anche mi interesso di questo tipo di cose lo spiritismo per me è un segnale straordinario proprio di una cosa di sapere vedere come si è modificato lo spiritismo per l'epoca di Conan Doyle oggi mi dà proprio l'idea del disagio specifico che noi che noi in qualche maniera dobbiamo affrontare sempre il motivo che diceva Chesterton però mai si crede del tutto non è vero non si crede niente si crede del tutto a qualsiasi stupidaggine cioè ingredita attraverso i social attraverso questa cosa qua ci crediamo ecco questo ahimè temo che sia il rischio maggiore della società di oggi vedete siamo andati a parlare di un libro qualunque le cose ai massimi sistemi ma che sto diciamo mi capita abbastanza spesso ecco spero di non avere annoiato nessuno già a un certo punto se lo smette se andiamo qui domani mattina ecco credo di avervi tagliato anche troppo a lungo se c'è qualcuno delle domande sono proprio bene adesso un po' la camera posso rendere grazie se c'è qualche domanda qui c'è il microfono buonasera salve prego di parlare fuori altra perché su voi c'è un senso accente dicevo sono Fabrizio piacere mi hai venuto in mente una serie di altri influssi dello spiritismo ma io conosco sto conoscendo avvicino a me avvicino venga mi avvicino ti metto uno sgabellino così vengo anche a fare la domanda se no andiamo prego avvicino a me grazie scusa mia prego dicevo cosa dello spiritismo sapevo che si era sviluppata in sudamerica con la lancatec voglio ti metto una volta io non hai toccato con i discorsi quindi ero curioso di sapere la storia come continuare se hai avuto esperienza con un bando che penso che sia la trasposizione dello spiritismo dunque in sudamerica proprio per via dell'influsso delle sette evangeliche protestanti che sono state molto molto in qualche maniera influenziate dello spiritismo con Antoville c'è stata un'enorme diffusione della una vera e propria religione degli spiriti che in più si è in qualche maniera innestata sulle tradizioni venute dall'Africa quando gli schiavi hanno portato tutta una serie di tradizioni umbanda il candomblé e cose di questo genere io ho sentito tanti questi cerimoni perché sono tornando l'altro diciamo da un'altra parte e la cosa interessante che c'è in questa cerimonia è il fatto che anche le persone più ostili a cose di questo genere i razionalisti i materialisti più incancraniti nelle loro convenzioni a un certo punto cominciano a sbarellare e la cosa interessante è che in questa cerimonia non è che c'è uno sbarellamento diciamo così la persona che subisce una sessunazione interiore lo fa perché dicono loro è invasa dal Dio cioè c'è un Dio una divinità una delle divinità feticiste delle popolazioni africane no? ecco che in qualche mene prende possesso di questa persona e la tratta come un cavallo cioè la guida come se fosse un animale che porta in groppa il Dio cioè loro usano un po' questa espressione l'invasato diventa il cavallo del Dio e si comporta secondo le attribuzioni del Dio in questione per esempio una delle personalità che si manifesta più facilmente è la dea non voglio dire l'amore perché è del sesso in realtà che si chiama Pomba Kira no la Pomba Kira ecco quando viene invasato da una persona un uomo viene invasato dalla Pomba Kira comincia a fare la cosa più a scene possibile si esibisce in maniera piaciuta vecchia zitella che tutto farebbe nel suo cuore il culo operario cose 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 incredibili ecco poi ci sono altre divinità per esempio c'è la divinità del male della violenza e cose di questo genere che fa diventare aggressivi se aggettano il torso quello che sta vicino prima a Pugna tutte persone che non hanno non solo sono totalmente dioressie aliene all'immaginare qualcosa ma che non sanno neanche chi sono queste divinità quello che viene in vaso della Pomba Kira non ho mai sentito parlare di questo qui non hanno che sono prete non hanno mai sentito parlare di cose che succede e comincia a spogliarsi a fare cose innocenti proprio perché invasano è la Pomba Kira tutti i nostri sono di dove conosco questo dà un'idea diciamo intanto del fatto che queste entità queste cose sono presenti in ciascuno di noi perché in ciascuno di noi ci sono delle istintualità che possono essere ricollegate a il simbolo che definisce questa società loro la chiamano Pomba Kira non la chiamiamo in maniera diversa anzi da Dene che ne so cose di questo tipo però questa istintualità c'è sempre dentro di noi e si può manifestare la cosa interessante è che questa cosa si manifestano in seguito a un certo tipo di ritualismi cioè si suonano delle musiche specifiche si bruciano incensi particolari si si fanno delle danze ritmiche specifiche che sono le stesse sono identificative di un certo tipo di divinità e allora quella appare e appare anche in chi non aveva mai sentito parlare di questa divinità ed era la prima volta che si è separito questo significa che esistono dei sistemi che in qualche minera ci influenzano anche senza che noi li conosciamo anche questo non è mica strano io che studio magia della vita centomila volte vedo dei rituali dei cosiddetti grimori i libri e gli stregoni che servivano per evocare quelli che loro chiamavano demoni ma sono di fatto lo stesso tipo di entità cioè di istintualità che emergono anche in queste cerimonie diciamo e vedo ciascuno di questi demoni ha un ritualismo specifico per essere evocato ciascuno di loro ha bisogno di un certo tipo di segno ciascuno di loro ha bisogno di un tipo di incenso specifico ciascuno di loro ha bisogno di un tipo specifico di meditazione che devi compiere una preghiera lo dicono ma in realtà quella che nei grimori chiamano preghiera in realtà è un atto interiore molto profondo la quale si deve arrivare preparati in maniera particolare quindi evidentemente nel tempo l'umanità in qualche maniera sempre di tascia manica ha scoperto delle chiavi specifiche nelle quali da utilizzare per aprire le porte a certe istintualità specifiche che sono dentro noi vedete queste istintualità non sono solo dentro di noi perché ciò che è inoltre è come ciò che è in basso quindi queste istintualità sono presenti come forse universali esistono in tutto l'universo e questa è una radice profonda dunque se vogliamo ritornare alla nostra religione quando il Padre Eterno creò Adam dal fango gli disse facciamo l'uomo facciamolo come noi che sia come il nostro doppio cioè che noi possiamo rispecchiarci in lui e lui è rispecciato in noi ecco questo siccome Dio è tutto evidentemente dentro di noi secondo questa tradizione secondo le figlie dentro questa tradizione c'è il tutto e allora si capisce il senso della frase che stava scritta sul frontone del tempio di Apollo Delfi se vuoi conoscere le cose conosci te stesso cioè devi guardare dentro di te e allora affondando nella tua coscienza arriverai ad attivare quello stesso tipo di forza che era chiusa in te ma che si rispecchia in tutto l'universo un po' come che so nella 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 cabalà c'è un'immagine per dire una cosa di questo genere cioè tutto l'universo è Adam Katman cioè l'adamo universale di questo adamo universale noi siamo come il DNA cioè in ciascuno di noi c'è il codice per riprodurre interamente tutto l'universo ecco questo è quello che crede che crede la magia noi siamo il riflesso della Dan Katman e quindi il riflesso di Dio perché c'era quella che Ganon chiamava la grande triade Dio universo uomo sono la stessa cosa ecco questo è il concetto che in qualche maniera cercano di spiegare le dottrine le dottrine ermetiche e che ovviamente pochi hanno riuscito al dottrine sono riuscito a riuscire a riuscirare perché pochi l'hanno capito insomma ma non è colpa loro perché il linguaggio il linguaggio è molto diverso diciamo e quindi io ho trovato proprio in questo cerimone il candomblé in questo tipo di cose proprio in qualche maniera una prova diciamo così che avevano ragioni degli antichi e c'è in tutte le culture nel buddismo si dice per avere conoscenza non c'è bisogno china la testa sul petto e nel tuo ombelico vedrai il gioiello omani padma hum la frase significa il gioiello è nel loto è nel loto dai mille per itali che tu trovi chinando la testa sul petto nel tuo ombelico è esattamente lo stesso concetto nel notice auton vedete come la differenza quello che abbiamo detto è un altro l'esperitismo fino ad adesso riguarda solo l'occidente se si dovuto aprire il libro sulle civiltà orientali non bastava questo secolo insomma se andiamo a parlare quello come vedevano questo tipo di cose i cinesi i giapponesi gli indiani e non chiederemo più però tutto quanto questo poi alla fine si riduce ad uno schema che si sovrappone molto molto bene ecco questo dalle domande sopraffatti riguardo alla tradizione della seduta spiritica così come nella tradizione il tavolino a tre piedi insomma volevo sapere oggi se si mantiene ancora questa tradizione della classica la seduta spiritica o se è una funzione dunque io per tutta la giovinezza ho parla in sacco di tempo appresso i tavolini ginevoli cose di questo tipo ho visto le cose più strane i tavolini sarampicavano sul soffitto le ombre curiose le fotografie che stanno in questo libro che fa le cose più semplici che si possono vedere ho conosciuto persone sanissime il professor Roll per esempio quindi c'è questa tradizione diciamo oggi ha meno eco di quello che ha visto una volta perché non c'è più tanto interesse nello spiritismo proprio per il tipo di cose che ho detto adesso siamo una società più positiva che crede nelle macchine e non ci accorgiamo che in realtà porto atto a queste macchine noi abbiamo un tipo di riscontro per questo questo stesso tipo di cose ma c'è ancora insomma io ho un po' di tempo che non non fregente questo perché non continuo ancora a ricevere i viti vieni qui c'è la seduta abbiamo bisogno il tuo parere verso un lato ho lanciato più ma c'è più voglia ma diciamo per tanto tempo c'è stata l'ultima volta è successo un paio d'anni mi scusi partendo dal fatto che lei ha studiato ingegneria quindi ha dovuto sviluppare una razionalità diciamo occidentale quanto questo sviluppo di questa razionalità che ha condizionato poi il modo di vedere il reale è stato messo in discussione da quello che lei ha detto del mondo diciamo degli spiriti di rispetto proprio al reale dunque non è stato messo in discussione nulla perché non ho mai fatto diciamo l'errore di credere che spiegando questo mondo qui si possa spiegare anche il modo di le cose che noi conosciamo con i nostri sensi amplificati dai nostri strumenti riguardo il mondo materiale il mondo che è anche poi anche questo è solamente ridotto perché noi sappiamo per esempio che più del 90 85 e 100 con la materia non c'è accessibile in nessuna maniera perché la cosiddetta materia oscura alla quale in realtà poi ho trovato proprio in questo genere di studi e nel raffronto con altre discipline chiamiamole così magico esoteriche una serie di coincidenze una serie di sovrapposizioni che mi fanno capire che avevano ragione quei signori che dicevano guardate la verità la trovate dentro di voi non la trovate non la trovate al di fuori facciamo solo un piccolo esempio cioè che è quello della fisica quantistica e la cabalà ecco io ho il piacere di diciamo così il piacere insomma costanza di tradurre e commentare i testi fondamentali della della cabalà che si chiama il libro seferi e tira si chiama il libro della formazione dunque il libro della formazione concepisce la realtà in questa maniera come una cosa che gli ebrei chiamano belgal che significa ruota ma in realtà indica sfera quindi quindi concettualmente una specie di sfera una sfera normale che possiamo rappresentare ecco che è tagliata in qualche maniera da piani differenti corrispondenti a due lettere dell'olfabeto granzo fosse antipodalmente intorno a questa sfera ecco ciascuno di questi piani indica in questa sfera globale il momento della realtà nella quale noi ci troviamo ecco quindi il nostro mondo quello che noi vediamo non è altro che un piano che attraversa questa sfera del tutto ecco questo concetto è identico a quello che la fisica e la fisica chiama multiverso considera il multiverso come esattamente una non una ipersfera di Riemann a 11 dimensioni nel quale uno dei piani secanti che passa attraverso il centro è la realtà nella quale ci troviamo cosa differenzia un piano dall'altro la differenza dall'altro perfettivo perché secondo il principio di indeterminazione noi non possiamo concepire esattamente lo stato specifico di una particella dobbiamo andare a misurarla però nel lato stesso di misurarla noi lo determiniamo altrimenti la realtà è indeterminata ci sono solo un certo numero di probabilità che una certa particella abbia uno spin piuttosto che un altro sia individuabile con particella invece che uno quindi diciamo è la nostra percezione l'atto percettivo che determina la realtà in cui ci troviamo e in ogni momento è quello noi passiamo da un piano all'altro a seconda che l'atto percettivo determini il nostro salto di livello fra un piano all'altro tutti noi siamo come un immensa immenso gruiglio che comprende in tutti quanti questi piani un sviluppo in senso matematico enormemente complesso perché noi riteniamo in undici dimensioni di questa immensa sfera ecco questa spiegazione dell'universo a multimondi del multiverso come lo chiamano è una delle spiegazioni che nella fisica quantistica cerca di risolvere le contraddizioni tra la fisica quantistica e la relatività di Einstein la relatività spiega molto bene l'universo in grande la fisica quantistica spiega molto bene l'universo in più piccolo a livello di particelle atomiche e subatomiche però insieme le due teorie si contraddicono perché sono dei territori nei quali la qualità dell'una nega la qualità dell'altra ci sono molte teorie che cercano di risciogliere questa contraddizione una delle teorie più accreditate si chiama teoria delle brane M brane che era l'erede della teoria delle stringhe la teoria delle stringhe diceva che il mondo le particelle si originano da una subparticella l'elemento fondamentale delle particelle che vibra questa vibrazione genera una funzione d'onda che noi in certi casi apprezziamo come particella in certi casi apprezziamo come come onda ecco incidentalmente questa immagine della particella che vibra genera tutto l'universo mi ha richiamato i pitagorici i quali dicevano che tutto quanto l'universo è frutto di un'armonia delle sfere che era generata da corde vibranti ecco in realtà le corde non sono corde ma sono membrane perché hanno scoperto che la teoria evalda soltanto se noi non consideriamo delle corde come quelle dell'arco ma dei tamburelli come quelli degli sciamani ecco è questo che vibra ma la cosa interessante è che la teoria prevede 11 dimensioni altrimenti i calcoli non non contano nella nella cabala in particolare nel servizio di azina tutto l'universo è spiegato perché ci sono 11 dimensioni questo numero ecco e come lo spiega lo spiega perché Dio solo nell'assoluto quando esisteva solo Dio ma non c'era nient'altro ecco che cosa poteva poteva fare per dare un ordine al nulla nulla che era anche nulla poteva immaginatevi di essere un punto percipiente senza dimensioni senza nulla che è immerso nel niente che cosa può fare un punto che non ha fisicità non ha nulla eccetto il fatto che percepisce per dare ordine a questa a questa a questa a questa immensa distesa e niente benissimo guarda in alto guardando in alto determina una direzione ed ecco che c'è già un ordine perché c'è lui e c'è la direzione su guarda in alto ed è quello che dice il servizio Eruim Dio guardò in alto e fissò il sopra con tre lettere del suo nome qui c'è tutto un simbolismo poi che fa guarda in basso e fissa il sotto con altre tre lettere del suo nome ecco è l'ordine le lettere quello che conta le lettere sono sempre le direzioni ecco e allora che cosa succede ha determinato non soltanto una direttrice ma anche un senso cioè il senso che è da da lui o il senso che è un senso e allora che cosa si è determinato non soltanto lo spazio perché c'è una direzione quindi qualche cosa che contiene ma ha determinato anche il divenire perché c'è qualcosa che può cambiare c'è una direzione io posso andare verso il basso quindi non soltanto si è determinato lo spazio ma si è determinato anche il tempo e allora queste sono due dimensioni due direttrici ecco poi guardiamo una parte poi guardiamo all'altra ecco questo adesso questo a sinistra è della stessa cosa poi guarda nella terza dimensione possibile degli assi delle assi delle assi delle assi delle assi quindi ha definito interamente lo spazio e lo ha definito ogni volta contro l'etero del suo nome questo è interessante questa cosa qui perché lo spazio che viene definito in questa maniera è sì finito ma è anche limitato che è esattamente quello che dice la teoria cosmologica di Einstein che definisce l'universo infinito ma limitato un certo limite come la curva che va verso l'asintoto e lo incontra all'infinito ecco però lo spazio che è racchiuso fra la curva e gli assi cartesiani poi non è finito è finito perché noi lo possiamo calcolare come un integrale ecco quindi qui adesso la sovrapposizione il sovrapposizione il sovrapposizione cioè la cabola la visione è identica va avanti non so spiegare a tutti il sovrapposizione se no si 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 finisce questo tipo di cose che le 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 dimensioni definite in questa maniera sono dieci delle quali quattro aperte sono gli assi cartesiani e il tempo gli altri sei sono chiuse benissimo che esattamente quello che prevede la 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 fisica quantistica perché 6 delle 6 delle dimensioni di fisica quantistica si chiamano spazi di calabillau che sono dove si ma c'è un italiano altro che hanno che hanno che hanno studiato una cosa che sono oltre le dimensioni che sono aperte che sono quelle che noi conosciamo ci sono anche 4 dimensioni 6 dimensioni che sono chiuse come nella cabala così la fisica quantistica i spazi calabillau sono chiuse sono dimensioni aggroviate con se stessa nelle quali non possiamo penetrare ma esistono ecco c'è un'undicesima dimensione che deve essere vese in considerazione questa undicesima dimensione è la consapevolezza umana in questo senso il inizio di la sera è chiarissimo adesso per trasportare una cosa di questo genere nella fisica quantistica come possiamo fare ecco come si queste dimensioni hanno mi scuso per usare un po' di concetti ma di me hanno la 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 struttura concettuale di un vettore il vettore è un ente fisico che ha una direzione e un senso ecco come possiamo dare una dimensione un senso e un valore numerico ecco un'intensità come possiamo dare a un una una percezione umana una caratteristica di questo genere ecco lo facciamo esattamente come fa la fisica quantistica la fisica quantistica per definire un vettore il vettore uno dei vettori poi sono tensioni non vettori usiamo uno spazio di rimane ecco usa una cosa che si chiama il calcolo matriciale cioè delle tabelle di numeri ecco esattamente quello che fa poi da queste tabelle di numeri si ricava con un calcolo il determinante che è il numero specifico che ti dà l'intensità ecco esattamente quello che fa la sabbia c'era soltanto che invece di numeri usa una tabella formata dalla lettera del nostro capito ebraico c'è una una sovrapposizione incredibile fra ecco io mi sono presa una volta la briga di contare e poi ci sono anche altre c'è la regola di volere c'è una sola varia di considerazione di maniere mi sono presa una volta la briga di cercare di capire quale fosse la probabilità che fosse semplicemente coincidenziale cioè 11 numeri a caso fossero quelli 11 numeri lì è uscito una cifra di non so quanti miliardi non è adesso mori ordo 1x2x3x4x4x5x6x7 11 elevato non so c'è una cifra talmente enorme che praticamente diciamo che è impossibile la domanda era l'ingegneria ti ha aiutato mi ha aiutato a fare questo per cosa serve poi insomma sono tutti per strocchi e mi faccio una capoccia allora se non ci sono altre domande io andrei a chiudere ringrazio Sebastiano Fusco ringrazio Chiara Orlandini ringrazio tutti voi di essere venuti qui questa sera devo dire io stavo qui nella prima fila che c'era un silenzio totale densissimo tutti tre mortiti non lavo una voce no no c'era proprio un'attenzione palpabile che insomma è rara perché poi comunque è sera perché è la fine di una giornata comunque di lavoro per tutti quindi grazie Sebastiano sempre interessantissimo grazie a voi grazie a voi